Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, oggi WinNotes con il pastore Camo e Franzi Anche se Franzi a metà game ha deciso di fare una scelta non troppo giusta Quindi endgame diciamo solo con Camo E niente ragazzuoli, vi lascio al video, ricordatevi di iscrivervi al canale, di lasciare un bel like E niente ragazzuoli, io sono in live tutte le sere, dalle ore 19 e adesso vi lascio al video Siamo morito da 500 Hz Oh, c'è uno qua? E' morto? Morto? Fenomeno No, no, ho solo dormito bene Ho solo dormito meglio Andiamo a pushare, basta No, sai una cosa? Ho un cecchino solo, non è che si fa il ballone da solo? Mamma mia, che schifo E' niente da me? Da me, da me, raga, mi è campetto Di corto? Arriba? Morto? Porca troia Penso veramente sempre è morto, mamma mia Penso, devi togliere un, no, no, non c'è Mercato? Nooo Morto? Arriba, obbligato, arrivo, arrivo, arrivo Dov'è? Easy, easy, morto va Sottile? No, è andato a terra Che è colaggio? Qualcuno di una manata No, vorrei che è un'elite Barranello È un'elitella, è un'elitella E non è avvenuta Il tetto Arrivano Arrivano Dove? Ma hai aperto, sei da solo Cuore, d'aondere Andrante, close Mi blocca dentro 24 doppio non so dove sia ma dove cazzo è andato ma dov'è? è sparito ragazzi è sparito c'è il chat assurdo ciao ok qua c'è un cieco arriva dove è? non è eccolo sulle scale qui c'erano pure uno sul tetto raga in dove è? non è il botto il botto raga era real questo non c'è il soldo no fra che non è diversa di qua magari sul box non c'è il botto non c'è il botto ma a sinistra non c'è il botto non c'è il botto ecco 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 qui davanti da noi blaze eh raga io sono io sei e vieni qua da me da me morto bravi vedi bisogno ma? non riesci a prendere la macchina Francis ho ucciso il potato che hai ucciso? potato però non mi fa andare avanti ferma il potato allora va indietro ahahahahahahah beh il cavo è comunque troppo intelligente dai guarda vedi sono ti indietro c'è l'ultimo Francis qui da me Francis si direte ok ma se io muoio perchè quindi mi ha dato la mano dammeli tutti allora chi è con la macchina? io io no 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 perchè sono lì da non siete voi? ok ma blaze dove stai ahahahah 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 fredel 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 ahahahahahah ahahahahahah ahahahah ciao Cristina buona sera buona sera buona sera mongerar premio è il migliore ma il mio amico è il mio game ma fredel WTF sei serio? ma si lo so qui è tutto andato c'è sto con me in calabecco ci devo scherzo sto casato merda ragazzi mi è in mezzo a tutto cioè sono tutte qui la gente sono quattro medaglioni qua raga io ho tanta vita oh frutta c'è un team frutta vai in safe vai in safe ti prego vai in safe che non aveva ancora assalto no sto aspettando di che è che mi sparo raga adesso facciamo un cambio di auto ok vabbè arrivederci in questo cambio di auto morirò vai vai prenderla assalto ragazzi macchinetta 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 da spaccare il culo ciao c'è un team per te ma dove vai mamma mia franzi ti giuro ti giuro tu sei tu sei quello che fa che griffa tutto ti giuro niente di niente mi riporto capito lui andiamo via raffrata via si qua 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 ho fatto una sfida che si chiama wow puzzi ma bleb vedi qua cazzo 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 in questo per il per il qualcosa in tutto questo c'è ancora tre colpi di cecchino guarda li ho io vieni voglio fare una cosa stiamo fermi appena sentiamo passi ci trasformiamo in oggetto e li spacchiamo in culo io se vuoi divento invisibile no no è meglio l'oggetto ma perchè non dura ma perchè non ci trasformiamo già in un oggetto eh no perchè non dura all'infinito no quindi appena sentiamo qualcuno ecco ecco aspetta spariamo un attimo forse arriva gente ma se miro mi fa via il bidone si ma come faccio a ucciderli eh mira e spari fra guarda prova mira e spara non mi fa mirare eh capito fra non so la fega devi fare qualcosa aspetta vediamo fa la merda la fega dai che devo fare fa la merda ah devi devi ecco devi cliccare il tasso per sparare ok 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 devi cliccare ah ok ok vai vai sicuramente la fega di più dai 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 ma adesso ci diamo uno così stanni che immagincio incontrino amico nooo nooo ti prego usciamo così ti prego usciamo così ti prego ma ti puoi la mia scheda guarda come faccio ad andare a prendere la tua scheda di chi avrà la mente no 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 vabbè usciamo la musica guarda c'è un barriere dello slurp cazzo benato a te mi chiamai nei tornei non c'è nei tornei mi sa c'è cosa non ci beccheranno mai sincero ma che cazzo merda rampina non è in pieno non è in pieno non è in pieno è bene non è in pieno io ce l'avevo già qua a parte c'è un botto di roba con due kit non ci vede nessuno non ci vede nessuno easy ok nooo sono diventato normale c'è uno qua lo cecchino lo ammazzo 110 morto è fermato 110 all'altro cosa 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 io guany 35 un attimo ci dice di vieta fare un attimo un kit ma dipenduto te se tu adesso non muovi no io non muovi però quello è scappato un po' ha capito vabbè fai un momento però qui da me è pieno di rugi uno fracco di roba seria uno fratto qui c'è un pompa viola se bisogna arrivo a me c'è uno zio mi fanno massacrata arrivo a me guarda guarda c'è il pompa mitico arrivo a me arrivo a me arrivo a me che lo ti dico la zio ma devi andare qua a prendi un po' 20 tu arrivo questo serve da jones arrivo a me 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 aprivo il movement ci serve perchè io rampino e mi tengo l'aereo ma c'è rampino se vuoi posto nooo dai un big a camo si guarda qui c'è l'accappazzolo quanta roba ah questo a quelle forte porte si vieni andiamo in zona ora mi devi seguire per bene bene con me andiamo andiamo oh è qua sotto c'è uno c'è uno è la sola per il carcato dove 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 qua dove è come si è la sola c'è un po' da me il box morto dalle due medaglioni sti due medaglioni sti dai non mi giuro ok ragazzi mi piaceva ma anche la fata non so cosa ok dalle due due v2 uno vuole davanti a noi io ho chiuso sono due di uno di uno uno davanti a noi sono morto ma sono qui qui sotto ti serve il kit no mister l'usta visto ok si due a 1 lassù la sinistra è una del qua fu la destra mi sa voglio andare inserito ma stare buttando sto vogliono 30 è buttato 29 28 vabbè vabbè citando possiamo anche possiamo anche esatte tagliamo da qua se no su quel tetto e vediamo dove sono risolta per forza graffati quando quello con il medaglione lo vediamo ancora lì dietro ma lì c'è l'ult io prendo i medici ma se mettiamo ci sono riusciti prego non vediamo sto posto in basso spaccate le gambe non posso brillare è qua possiamo tropparlo io lo troppo hai fatto una brutta giocata morto? bravo restami devi restarmi adesso zio devi restarmi ora tre medaglioni tre medaglioni niente mi perso no 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 ok niente vigo mi safe provate tutti i medaglioni no io ne ho uno al camo ne ho 20 vabbè ho preso così mi faccio scendere fast si 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 non lo so fandovi dove? si lo vedo da davanti sta farmando quindi per me nella trappinazza quello lì non so dove l'altro però non so dove l'altro non so dove l'altro non so dove l'altro 33 a 1 33 ancora craccato ho distrutto quello destra un hp con l'olio morto? morto con l'olio destra dai che abbiamo vinto da qua sotto l'altro? sai che lo voglio uccidere per rampino questo? lo ucciderò il prossimo game per non tirare easy yeeeh 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 viooo papà papà pfff 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 pfff